poteva volare l'antichità greca narra di abbaris veggente e sacerdote di apollo vissuto all'epoca di creso abbaris poteva volare nell'aria alla maniera degli sciamani era vero commento come era vero che volasse san giuseppe da copertino 1603 1663 al secolo giuseppe maria d'esa appartenente all'ordine dei frati minori conventuali che volava a 12 metri sopra le teste dei fedeli